Il marchio SAFE è conosciuto in tutta Europa come sinonimo di affidabilità e professionalità, coniugando da sempre una costante qualità ad un know-how tecnologico all'avanguardia. SAFE ha una linea estetica e una linea medicale e al Cosmoprof 2012 a Bologna ha presentato Shark, un manico porta lame per esfoliare calli o duroni. Shark è di facile utilizzo e ogni lama è sterile e confezionata singolarmente. Professionalità, funzionalità e sicurezza.